Un turismo sempre più sostenibile e senza barriere. La Toscana è missione a Bruxelles, al Parlamento Europeo, per l'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, per raccontare alle altre regioni d'Europa il proprio impegno in difesa del diritto di viaggiare. Presenti alla tavola rotonda sul turismo accessibile per tutti, l'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo e il direttore di Toscana a promozione turistica Alberto Peruzzini. L'assessore Cioffo, durante il suo discorso alle altre regioni europee, ha sottolineato che tutti devono poter viaggiare e viaggiare è un diritto, anche per chi ha una disabilità. Fare questo significa investire sull'economia, investire sul futuro, investire nella tutela di ciò che è di più prezioso ci è stato consegnato dalle generazioni passate. Abbiamo, se possibile, anche un compito in più. Renderci conto, intanto, dell'accessibilità è un tratto distintivo che aggiunge, se possibile, valore al sistema della nostra ospitalità. E quindi determina una maggiore attrattività della Toscana in quanto sicuramente è diffusamente accessibile. E in più abbiamo anche il dovere di trasmettere il valore culturale del nostro patrimonio. Quella inaccessibilità alla cultura è una barriera che dobbiamo superare. Un tema, quello del turismo accessibile, molto caro alla nostra regione. Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha ricordato come in Toscana ci siano oltre 1.100 strutture ricettive certificate per accogliere turisti con bisogni speciali e poi 43 tra parchi e spiagge, 141 musei e 39 itinerari accessibili. Quindi il turismo per tutti, il turismo che cerca di mettere nelle condizioni i turisti da tutto il mondo, di scegliere una destinazione non perché è accessibile ma perché è la destinazione preferita e, diciamo, naturalmente è anche la destinazione accessibile. Quindi la grande sfida è questa, lavorarci con razziocinio e con progettualità pluriennale per i prossimi anni l'impegno della regione toscana non mancherà. Al Parlamento europeo è in corso un dibattito per dare una linea guida per uniformare le politiche di attenzione alle diverse disabilità e per questo la Toscana ha portato ad esempio le sue buone pratiche per un viaggio senza barriere.